Non sarà un capodanno col botto per gli animali domestici e selvatici. Saranno intimoriti dai botti, danneggiati anche seriamente, fino addirittura a arrivare alla morte, se ne è discusso nel bilancio di fine anno del WWF e Abruzzo, Nicoletta Di Francesco. Siamo proprio contrari a questo modo di festeggiare, abbiamo tantissime altre cose a cui pensare, specialmente anche in un periodo di guerra, i botti ci ricordano anche momenti difficili. Ma soprattutto per gli animali, anche quelli domestici che abbiamo nelle nostre case, nei nostri giardini, perché spaventarli? I botti per loro sono qualcosa di sconosciuto, di spaventoso, la reazione normale è quella di fuggire e spesso si perdono proprio gli animali, ma anche quelli selvatici possono subire comunque uno spavento talmente forte che possono anche fuggire in aree dove non dovrebbero essere. Cerchiamo quindi di ridurre al minimo, addirittura eliminarli questi botti, così come i fuochi d'artificio. Noi siamo battuti anche contro i fuochi d'artificio che sono stati sparati purtroppo sulle dune di Pescara. È una forma anche, dobbiamo dire, in questi tempi di inciviltà, perché oltre a quello che crea come rumore e tutto, sono anche le polveri che emettono, i polveri sottili, ma anche tutti i coloranti sono comunque creati con materiale che inquinano l'aria, l'acqua e quindi sono proprio da evitare. Noi pensiamo che sia soltanto un momento, in realtà i residui rimangono e permangono. Anche Lega Ambiente con Silvia Tauro si unisce all'appello del WWF. Ci avviciniamo alla fine dell'anno del 2023, come ogni anno sono vietati i botti, i petardi che creano problemi non solo alle persone ma anche e soprattutto agli animali. In che modo? Sappiamo benissimo che l'utilizzo quindi di botti e petardi in generale dei fuochi che purtroppo continuano a fare parte della nostra tradizione culturale hanno un impatto molto violento sulle percezioni di quelli che sono soprattutto i nostri animali domestici. Sappiamo anche che i divieti purtroppo non riescono assolutamente ad arginare il problema, quindi quello che facciamo è proprio un appello alla sensibilità delle persone, un cambio di passo culturale per quella che noi è una piccola rinuncia e che non toglie niente alla nostra possibilità di festeggiare ma che rappresenta invece un atto di cura fondamentale non solo per il benessere animale ma anche per la salute delle persone perché ricordiamo appunto la dispersione degli inquinanti che sono causati quindi da botti, petardi e fuochi e che d'altro canto quindi ci permetterebbero però veramente di iniziare l'anno in maniera un po' migliore.